Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto oggi e domani divieto di transito in via Matteo Pescatore tra via Bava e lungo Poca Dorna per il montaggio di una gru. Semafori in manutenzione sino a venerdì con agenti in centro incrocio in corso potenza all'incrocio con strada Lucento e via Borgaro. Dalle 20 a fine servizio le linee 72 e 72 Barrato subiscono deviazioni di percorso in direzione Torino da via Lucento. Sono deviate in corso potenza, corso Toscana, Largo Borgaro, via Verolengo, percorso normale in direzione Venaria da via Lucento. Sono deviate in corso potenza, inversione di marcia all'altezza di corso Grosseto, corso potenza via Lucento, percorso normale. Vediamo le notizie di domani, martedì, da domani a sabato, controllo della mobilità in via Asinari di Bernezzo, Cibrali, di quella Fabrizio, di Come De Bianchi, Cossa e corso Monte Grappa. Alle 11 di domani mattina la cerimonia a cambio comandante nella caserma Carabinieri Cernaia. E poi semafori in manutenzione domani e dopodomani dalle 9.30 alle 17.30 in corso Giulio Cesare, Angolo via Scotellaro. Dalle 9.30 alle 17.30 di domani in corso Regina Margherita all'incrocio con la via Rossini, lungo Dora Siena. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.